Ciao a tutti ragazzi, io sono Cielophysis e sono nel sottosuolo Dove cavolo sei? Stavo scavando quando ho trovato della terra, pensavo fosse riuscita Ma in realtà, non lo è per niente Mamma mia, questo cos'è? Un breaking e qualcosa della protezione Dai proiettili, quindi per ora non mi serve Ma ho questa che mi interessa di più Allora, siamo in una brutta situazione In questo posto, c'ero venuto, infatti Lì sopra ci dovrebbe essere una miniera che mi riporta a casa Quindi voglio andare lì E so anche come fare Con questo enderpearl Oh cavolo, dai, scheletri, no, sono terrificanti Nella 1.8 Ok, purtroppo non ho abbastanza cibo, vediamo un po' Sì, cavolo Qua c'è un blocco che è un po' invisibile Però magari riesco a portare tutto a casa, eh Vediamo, sì, un bel po' di blocchi ce li ho Salgo Sperando che non ci sia nessuno qui sopra ad aspettarmi E vediamo se riesco a raggiungere casa Sì, ragazzi, è la miniera Questa non è una miniera Sì, è una miniera in realtà Ed è quella, la prima in cui siamo entrati E dove sono morto un bel po' di volte Però quest'oggi è la nostra salvezza Meno male Sarà un po' complesso rifare la stessa strada Per ritornare in quel dungeon in futuro E comunque abbiamo aperto questa cosa qui Il mio obiettivo nei prossimi episodi sarà quello di mangiare di più Ottenere cibo Magari cuocio direttamente questa pecora sul posto, guarda Ecco Ecco qui Ma soprattutto Quello di esplorare di qua Non di sotto Ma avanti Essendo che di sotto ci sono troppi pericoli Sperando di trovare qualcosa di interessante E lì che possa aiutarmi Qualcosa di interessante Dove abbiamo trovato questo? It is rumored Speed c'è scritto Mi da speed? Speed No, non da speed, vabbè Voglio andare a piantare Quelle cose Cioè i meloni E usare le ossa Per farle un po' crescere Perfetto Con questi si fanno i semi Sto davvero morendo di fame L'acqua Ecco Andiamo a cercare dell'acqua Togliamo questi Facciamo una fila di meloni E poi grano Fine Niente più meloni Ok quindi questi li posso anche rimettere Buon mille Lo usiamo per prima cosa su questi qui Ok Poi facciamo un po' di grano Perfetto Per un po' Abbiamo un po' di cibo Ma ci serve dell'acqua Di sotto ce n'è pieno Ma manco persone Ci ritorno io là Mmm Ci serve un secchio Per prima cosa Uno ne abbiamo Di ferro Quindi facciamo questi altri due qui Fanno anche delle bottiglie di esperienza Ma non credo di usarle adesso Abbiamo già finito tutto quel legno Cavolo Il pollo ha fatto le uova Uno Beccato di questo E le lascio qui allora Questo lo metto Questo lo mangio E questo pure Queste cose qui Le posso anche tenere Sì sì Me le porto dietro Almeno sì In caso di necessità Abbiamo un secchio Ma ci serve dell'acqua E anche un po' di cibo abbiamo Bene Cominciamo ad essere più Pieni di cibo Ok Adesso vado a cercare un po' d'acqua Non so se Posso trovarla di qua Il secchio l'ho fatto Giusto sì Anzi Perché non andare in giro Magari così troviamo anche il secchiello Guarda Eh sì Il secchiello è la coltivazione Ok Ok tu levati E Vaci te Perfetto Molto meglio Di acqua non mi sembrava che finora L'abbiamo trovata Sì c'è laggiù in fondo Ma non ci vado Quindi per me può essere qui Più avanti Ed eccoci dall'altra sponda E c'è un'altra sponda ancora più là Ma soprattutto un cavallo Che è inutile Uh guarda lì come si inoltre Una strana caverna Che non ci interessa Per ora Però andiamo avanti ancora Mamma mia Oggi sto facendo tantissime rime A caso completamente Ok Aiuto No Ok Ed eccoci di nuovo qui E vai acqua Wow patate Evviva cibo La terra Mi serviva ma vabbè E' uguale Eccoci Qui Si Perfetto Guarda qui Tantissime patate Prendiamo l'acqua E Guarda qui 31 Facciamo una coltivazione di queste E buttiamo via il grano Che è inutile Di là ci andremo in futuro Perché l'obiettivo era questo Ovvero trovare un secchio d'acqua Uaia Perché si Adesso Prendiamo il melone Che è cresciuto E me lo mangio Rapidamente Le patate Non le voglio cuocere Adesso Le voglio tutte coltivare Buttiamo via Questi Luridi Seminiti Di schifo E allora Posso ci mettiamo Prima cosa qua Dell'acqua Con sotto un blocco Così che Tutto Il tutto cresce Più rapidamente E poi No Ovunque patate Che sono molto meglio Del grano Normale Di sicuro Qua ci sono tutte Le angurie E quindi Le mettiamo qui Perfetto Ne faccio Ne faccio Crescere un po' Boom E Va bene Abbiamo molto Molto cibo Per ora Che ci basterà Per molto tempo E in più Un blocco di terra Che andrò a posizionare Qui E ci metto Una patata Perfetto Aspetta Ma non ci hanno bisogno Di più luce Perché ce ne hanno Ce ne hanno Quanto ne vogliono Di luce Anzi Mettiamoci il carbone A presto Fermati Fermati Carbone E abbiamo Molto cibo Questo qui Non so se Rimpiaterò Con questo Questo ha 5 Di armatura Questo ha 6 Però la protezione Di proiettili Che mi serve Molto Contro gli scheletri Ma dire Che per ora Non la mettiamo No Non è quello Che volevo fare Collected Smay Dead Went fast Ma non ho capito Che caspita Significa Ok ragazzi Direi che per oggi Tutto Ci vediamo Al prossimo video Ciao A tutti